Presidente Giacalone, tanti giovani, un gioco a tratti anche dinamico, la Mazzarese è riuscita a vincere questa partita, una partita che si doveva vincere, al 28esimo ha segnato Goibor, poi avete rischiato poco o niente, però era importante ripartire. Sì, sotto il profilo tecnico credo che il mister ha affrontato bene la tematica e quindi il suo compito di valutare le scelte che ha fatto. A me come sintesi di una società straordinaria ringrazio ancora una volta coloro che mi danno la fiducia in un momento di grande difficoltà, non mi sono nascosto e continuo a non nascondermi sul fatto che per tutta una serie di scelte che non sto qui a commentare, a esplicitare, eravamo in un momento di grande difficoltà sotto il profilo non dell'organizzazione societaria ma dalla credibilità nei propri mezzi del gruppo tecnico a cui avevamo affidato, mi riferisco ai giocatori. Invece devo essere sincero immediatamente la cantera che noi abbiamo creato l'anno scorso, voglio ricordare ancora una volta i ragazzi che ci hanno consegnato questo titolo straordinario di campioni regionali, credo che abbiano immediatamente colto il messaggio tecnico che abbiamo voluto dare, si sono messi a disposizione di misteriaco, noi hanno fatto l'unica partita possibile con l'unico risultato possibile che poteva venire attraverso una prestazione di cuore. Poco fa ho ringraziato personalmente sia Galfano che Corso perché sinceramente ho scoperto due grandi giocatori, fino ad oggi non so per quale ragione ma non abbiamo fornito nessun tipo di prestazione a questi livelli, li abbiamo presi perché abbiamo creduto in noi, a loro sono un patrimonio della società perché su un programma prurinale sono straconvinto che saranno la struttura portante per quello che ci siamo programmati e che abbiamo solamente rinviato perché il programma è sempre quello di uscire dalle paludi dell'eccellenza e speriamo di farlo nel più breve tempo possibile. Questa prestazione di oggi mi dice che abbiamo una cantera che cresce, abbiamo i giocatori di livello che abbiamo preso in estate che hanno, si sono messi a disposizione dei giovani e questo è un grande segnale di umiltà, un grande segnale di cuore e una grande credibilità per la società che malgrado le sofferenze che magari in esterno appaiono come una società sofferente in realtà sanno qual è la serietà e il ruolo della società, tutto quello che è avvenuto è avvenuto salvaguardando e preservando sempre una condizione che porta la mazzarese da società giovane ad essere ambita da molti giocatori, una società che non ha nessun condensioso con nessun giocatore, che non deve nulla a niente, ma questo lo si deve grazie ai nostri sponsor. Allora se devo scusarmi pubblicamente lo faccio magari con alcuni sponsor che hanno investito su una prospettiva immediata di portare la squadra in serie D, nel calcio 2 più 2 non fa mai 4 e quindi ho interloquito con ognuno di loro per spiegare quali sono state le ragioni che molti hanno identificato in un terremoto, in realtà è stata un'operazione preventiva per far sì che qualora succedesse un terremoto la mazzarese rimarrebbe sempre con i piedi ben salti a terra perché ha una situazione finanziaria che ci consegnano sempre ogni anno con l'affetto degli sponsor una grande solidità e quindi è nelle condizioni di pianificare almeno un programma triennale, quinquennale e decennale perché persone come Silaco, D'Aleo e tanti altri rappresentano delle personalità non calcistiche perché noi non viviamo di calcio, non ci nutriamo di calcio e meno che mai ci nutriamo di chiacchiere facciamo fatto, lo abbiamo dimostrato ognuno di noi nelle nostre attività non vi nascondo che l'emozione che mi hanno trasferito i miei figli, i ragazzi come Russo, Michele Perrone sono nell'età di mio figlio, mi hanno emozionato perché è questo il calcio che ci piace il calcio che deve essere fatto con il cuore e se volete analizzo e utilizzo un'analogia oggi abbiamo dimostrato di essere il Marocco del mondiale, il Marocco dell'eccellenza Prima parlavamo con il tecnico Giovanni Iagono per dare ai tifosi anche delle news si parlava di un rafforzamento e i giovani sicuramente sono una struttura importante la cosiddetta cantera, oggi abbiamo visto tra parentesi anche un Erbini tornato ai suoi livelli quasi, cosa si devono aspettare i tifosi della Mazzarese? Guarda io non dico mai, non parlo mai degli assenti, anzi colgo l'occasione per ringraziare i presenti il ruolo straordinario di Ciccio Tantillo che ha investito al buio su una società che era evidente che era in difficoltà non di classifica, il ruolo oscuro di Angelo Bruno che fa il grillo parlante ma sta aiutando notevolmente a costruirmi anche a me una cultura sportiva che non avevo se non quella di giocatore quindi i tifosi si devono aspettare sempre che questa società lavorerà vita natural durante fino a quando sarà guidata da noi per far sì che l'offerta calcistica a Mazzara alzi il livello perché se da 40 anni Mazzara milita nella palude dell'eccellenza la colpa non è della Mazzarese la Mazzarese è nata 4-5 anni fa, l'abbiamo presa in prima categoria, l'abbiamo portata in eccellenza quindi se qualcuno ha il coraggio di dire le cose per come si deve ed è uomo dovrebbe analizzare in questo senso una situazione che almeno per i primi 35 anni la Mazzarese non c'entra niente se ha qualche responsabilità per aver mantenuto il calcio e l'offerta calcistica a Mazzara in questa palude probabilmente ci potremmo riprendere responsabilità degli ultimi 5 anni meglio ancora degli ultimi 2 anni ma siccome non credo che ci sia da addossare responsabilità anzi tutti ci riconoscono il fatto che la concorrenza ha portato un livello e un'offerta calcistica di primo livello di grande importanza abbiamo un ante 19 e molti giocavano oggi vedi Ferrara, Omar, tutti i ragazzi straordinari che quando giocano si mangiano i tacchetti degli avversari nel senso un po' del tempo ecco questa è la Mazzarese ci sono dei limiti, ci sono dei punti di forza io ringrazio Iacono senza se e senza ma per un fatto non per la vittoria di oggi e nemmeno per il pareggio dove doveva essere una vittoria di Castellammare semplicemente perché è accettato senza porre condizioni oggi io mi chiedevo chi doveva andare in campo e avevo già dubbi io nella mia mente non mi ha mai fatto pesare chi c'era, chi era andato e chi lo abbiamo accompagnato ad andarsene fra questi vorrei ringraziare due campioni Segum e Testa, Testa si è posto in maniera elegante e gentile dicendo Presidente ho una bambina e c'è il futuro di mia figlia non ho esitato un attimo a trasferirlo contro il volere di tutti perché quando si creano dei rapporti in queste categorie e ci sono esigenze di prospettiva per la propria famiglia ho benedetto Testa, ho benedetto la sua scelta e continuo a volerlo bene come un figlio perché ripeto, molti mi rimpronono il fatto che non sono un Presidente dirigenziale ma sono un Presidente che molto spesso si lega ai propri giocatori non so qual è la ricetta giusta ma quello è un aspetto caratteriale che per me è importante quindi difficilmente, malgrado le raccomandazioni di chi mi collabora sono costretto a rinunciare